Ed eccomi ad Ortucchio! Per me è sempre un piacere visitare Ortucchio, anche se oggi sono di passaggio. La Lugo dei Marsi, Tommaso Pini in bici, è diretta ad Opi, è paesi limitropi, quindi dovrei superare i 120 km. Esattamente una settimana fa, il 23 di marzo 2024, ho fatto circa 130 km. Sono partito Luca dei Marsi in bici, ho visitato Secinaro, ma prima di Secinaro ho attraversato Sommeletta dei Marsi, Pescina, Collarmele, Forca Caruso, Casteldieri, Castelvecchio su Beco, quindi Secinaro, Gagliano Aterno e quindi ho rifatto il percorso inverso. Benvenuti ad Ortucchio, bello Ortucchio, guardate, da visitare, un bel panorama montaessi di lavoratori.